tutto il calcio minuto per minuto speciale scudetto 2012 2013 a cura di Mimmo Siena Giettili, ascoltatori e ascoltatrici buon pomeriggio e ben trovati con il racconto di tutto il calcio minuto per minuto dedicato allo scudetto 2012 2013 partiamo dal girone di ritorno perché in quello di andata è stato tutto dominato dalla Juventus che aveva concluso il girone di andata conquistando il platonico titolo di campione d'inverno la base di ritorno sarà ricca di colpi di scena e di emozioni esaltanti partiamo dunque dall'ultimo atto quello relativo alla ultima giornata del girone di andata dove la Juventus apponta allo stadio di Torino la Sampdoria per 2 a 1 negli altri incontri di quella giornata l'Inter è in trasferta a Udine, il Milan in casa contro il Siena così come la Lazio contro il Cagliari nelle giornate del 5 e del 6 gennaio ci saranno delle sorprese davvero interessanti